e carissimi amici e amiche salve e benvenuti sul canale vorrei anche dire due parole di questo caso di cui si parla tanto 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 in questi giorni è una riflessione anche da parte mia questa ragazza chiara, 21 anni, di questo paesino vicino a Parma Traversetolo mi sembra si chiama che in effetti si è scoperto che nel giro di poco più di un anno dalla luce due bambini senza dire niente a nessuno senza che nessuno sembra che si sia accorto di niente e li seppellisce nel giardino, nel giardinetto di casa se ne sono dette tante, se ne dicono tante stagli arresti domiciliari c'è chi invoca il massimo della pena perché sembra che almeno uno dei due sia nato vivo secondo me tutto è due quindi essendo nati vivi si tratta effettivamente di due infanticidi in piena regola da parte di questa ragazza allora il pensiero va a Paterno Dugnano la straccia di Paterno Dugnano anche lì questo giovane di cui non si sospettava o almeno così si dice una notte prende un coltello e uccide il fratellino, il papà, la mamma questi giovani insospettabili però vuol dire che la famiglia ha fallito sicuramente c'è un fallimento familiare questa ragazza che abbiamo visto anche in tv alcuni filmati perfettamente normale perfettamente inserita era una simpaticona piena di amici faceva addirittura la babysitter faceva la scout faceva l'animatrice però poi emerge pure un consumo abbondante di alcolici fumo e anche stupefacenti quindi questa gioventù scapigliata questa gioventù senza regole e il 12 maggio 2023 pastorisce un bambino e lo mette sotto terra nel giardinetto di casa 7 agosto 2024 ne pastorisce un altro lo mette sotto terra e poi casualmente ecco il cane casualmente scava porta alla luce questa colpicina e da lì scatta tutto altrimenti non si sarebbe nemmeno saputo cosa c'è nella mente di questa ragazza si parla di problemi psichiatrici ma che cosa è successo è successo innanzitutto il fallimento della famiglia il fallimento delle famiglie chissà quanti drammi ci sono nelle nostre famiglie e che non vengono alla luce perché è un po' un fallimento un fallimento di una generazione proprio perché non è possibile che questa ragazza nel giro di poco più di un anno faccia due diciamo gravidanze così poi addirittura vada in cucina con le forbici a tagliare il cordone ombelicale che poi non 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 chiude come si dice e fa morire distanguare i bambini come è possibile che la famiglia non non sappia si dice che nessuno se ne è d'accordo anche il fidanzato e poi fidanzato si dice per modo di dire perché tra alti e bassi alti e bassi sapete queste cose come si usa oggi spesso fidanzati così ecco però nemmeno gli amici ma nemmeno la famiglia come si fa una mamma e un papà noi perché abbiamo il concetto di mamma e papà forse vecchio vecchio stile ma questa famiglia che non si accorge non dico tanto della gravidanza perché voglio pure ammettere perché per una conformazione fisica particolare per degli accorgimenti particolari può anche essere può anche essere ma per ben due volte due gravidanze nove mesi e nove mesi e non ci si accorge di cambiamenti possibile che specialmente nell'ultimo mese specialmente il fatto di avere le doglie i dolori niente e poi quello che meraviglia sempre che subito dopo il secondo il secondo parto poi lei se ne vada così con gli amici o si parte per gli Stati Uniti ecco la banalità del male del male la banalità del male quindi come si può dire era una ragazza sana leggo ecco era una ragazza che tutti amavano ecco e poi nessuno sa niente nessuno dice niente ecco è questo che fa molto riflettere ogni tanto viene alla luce un episodio del genere che è venuto alla luce vi ripeto per una pura casualità perché un cane scava sentendo qualcosa di fresco no? questo colpicino che stava poco sottotesa e viene alla luce poi il tutto ma quante di questi casi ce ne sono in Italia chissà quante e quante magari anche omicidi diciamo il risolto sono magari avvenuti per mano anche di di minore e che magari non si sa non si conosce ecco questa è la punta di un iceberg la maggior parte dell'iceberg sta sotto il livello del mare e quindi quando vengono alla luce questi casi come quello di Chiara c'è da ragionare molto su come sia la famiglia oggi sulla mancanza di comunicazione nelle famiglie sulla mancanza di dialogo all'interno delle famiglie e dalla mancanza di dialogo che nascono tutte le problematiche perché uno questi ragazzi vivono un po' da soli si fanno il loro mondo si fanno le loro esperienze super facendo questo e quell'altro alcolici super alcolici per cui a vent'anni già sono ultra navigati da una vita è giusto così? non lo so quindi non dobbiamo nemmeno meravigliarci ci si meraviglia da alcuni filmati che subito dopo aver fatto queste cose la vita per lei continua come se niente fosse sì perché è così nella mentalità è così non ci si rende nemmeno conto quindi quando seguo i dibattiti in tv per cui si dice adesso eh l'ergastolo eh deve essere condannata eh il carcere a vita non è quello su cui bisogna discutere quello poi ci saranno i giudici che vedranno certamente certamente ho sentito dire cose anche esagerate tipo che che c'è una premeditazione tutto si può dire fuori che la premeditazione cioè nel senso che che lei li abbia voluti uccidere sì ma non a livello di premeditazione cioè magari uno fa una gravidanza per portare avanti un feto un bambino che nasce per poi ucciderlo eh è al momento che c'è una gravidanza cosiddetta indesiderata e si fa questa cosa qui però addirittura premeditazione però non è quello il punto perché è normale che tutti tutti quanti adesso eh il sgastolo il sgastolo non è quello il punto ci saranno i tribunali che decideranno questo noi non siamo un tribunale noi siamo qui soltanto per dare una nostra opinione per pensare per discutere per analizzare di solito lo facciamo con i gialli cioè quei casi che non sono ancora risolti dove ci sono tanti dubbi però quando accadono questi fatti qui come la strage di Padre Notugnano è opportuno fare una breve riflessione su che cosa genera tutto questo e la risposta è uguale anche per Padre Notugnano come in queste cose qui è il fallimento dei modelli comportamentali dei modelli sociali di una scuola che non funziona e di una famiglia soprattutto che ha fallito ha fallito perché questo in linea generale poi per carità c'è magari un 10% di famiglie perfette un 20% ma la maggior parte ha fallito perché noi pensiamo che ai nostri ragazzi bisogna dare tutto e subito e di più degli altri per farli sentire bene perché altrimenti soffrono di complessi non è così può succedere questo quando quando è tutto permesso è tutto dovuto non c'è sacrificio in niente quindi a 20 anni questa ragazza ecco a 20 anni questa ragazza è già già incinta due volte e con con abitudini di passare da un bar all'altro in tarda notte bere fumare e stupefacenti nonostante pure in stato di gravidanza quindi questo questa questa incoscienza questa cosa di essere incosciente eppure non sono incoscienti ma poi alla fine anche stupidi tra virgolette perché ognuno della sua vita una volta raggiunto la maggior età può anche fare questo ma in tutta questa libertà no possibile mai che questa ragazza non sa che ci sono gli strumenti idonei per non divanere incinta è questo che sorprende a volte c'è tanta disinibizione eh tanto comportamento disinibito tanta libertà e non si sa possibile mai ci sono ci sono tante cose anche come una spirale come questi interventi che si fanno per non rimanere incinta liberamente addirittura se poi si rimane incinta c'è l'interruzione di gravidanza se poi l'interruzione di gravidanza non si fa si pastorisce si può pastorire e al limite da lasciare il bambino al limite ma non ucciderlo allora come mai questa ragazza non sapeva che si può rimanere incinta e poi si dice beh la prima volta no due volte in un anno quindi com'è questa inconscienza questa superficialità questa banalità del male ecco il fallimento nasce dalla famiglia e molte famiglie vivono nel dare tutto e subito nell'affrontare la propria casiera i propri affari e i figli i figli devono essere liberi a 12 anni 13 anni 14 anni in giro fino a tardanotte senza le regole le cose tutto così perché poi una brava ragazza un bravo ragazzo bene a scuola socievole tutto e poi c'è qualcosa che cresce dentro di loro che somiglia a un mostro perché una ragazza che faceva anche la babysitter quindi sapeva cosa significa pura aveva a che fare con i bambini anche i piccoli ne cresce due in pancia e li uccide dove nasce tutto ciò non dal problema psichiatrico perché lei comunque era inserita nella società nasce dal fallimento di un modello educativo e dei valori evidentemente che non sono stati dati grazie questa è la mia analisi e poi saranno i giudici a giudicare quindi facciamo in modo di riflettere di ascoltare di più i silenzi dei nostri figli un abbraccio a tutti quanti voi